Una leggenda della musica popolare e non solo, ma Bepi, ovvero Giuseppe De Marzi, musicista, compositore, direttore di coro, organista, clavicembalista dei mitici solisti veneti, ha insegnato nei seminari di Vicenza, poi al Conservatorio di Padova, insomma, la musica nel cuore. Da quando? Da che età? Da quando i miei genitori, notato che io sapevo fare poco o nulla, hanno detto è meglio che Bepi, Beppino, studi la musica, così potrà esprimersi in modo diverso. È stata una scelta loro. Ah, accolta con favore, subito. Certo, io ho sempre obbedito a tre persone nella vita, mia mamma, mio papà e al maestro Scimone suonando nei solisti veneti. Che curriculum, eh? De Marzi è noto al pubblico popolare, soprattutto per aver fondato e diretto il gruppo corale I Crodaioli di Arsignano. Ci sono 150 almeno composizioni sue, testo e musica, tre o quattromila concerti in giro per il mondo. Componimenti che nascono da dove e perché? Io ho sempre cantato la vita intorno, ho cantato le stagioni, ho cercato di esprimermi con parole cercate, vale a dire poesia, e la poesia avviene quando vuole, come la musica. Ho preso le melodie quando sono venute da sole, quando la poesia è venuta a provocare le melodie e viceversa, e ho messo le armonie, è il mio mestiere, ho insegnato sempre armonia, e a un certo momento ho fatto anche, proprio volutamente, una specie di cernita delle cose buone e delle cose meno buone, perché non tutto ciò che si produce è buono. Che cosa vuol dire Crodaioli? Cosa sono le crode? Le crode sono le pareti verticali, e i crodaioli sono quelli che arrampicano le pareti. Cercavamo un nome che fosse diverso dai soliti, Monte qua, Monte là, e Carlo Gimiliani, romagnolo, ha detto chiamiamoci Crodaioli. Lei è un uomo di montagna, un alpinista? Io sì, sono stato alpino, ho fatto perfino l'alpino paracadutista, perché non mi accontentavo di essere un alpino. Ho fatto la scuola alpina di Aosta, ho sempre amato le montagne, perciò so che il canto della montagna non esiste, ma esiste il canto per la montagna, e io mi sono buttato dentro. Perché per la montagna? Cosa ha la montagna di speciale? Perché noi dobbiamo cantarla la montagna, la montagna è silenzio, la montagna è spazio, la montagna è totalità della bellezza, e non produce canti. La gente della montagna non canta, suona, suona un clarinetto, un corno, canta un'arpa, la fisarmonica, si trovano in due a raccontarsi il tempo, magari cantichiando un poco, ma il coro, come lo intendiamo noi di montagna, non esiste proprio. Non esiste, questo di solito non è così noto. E poi, scusi, il coro, che cosa ha di più un coro? Perché cantare in coro? Cosa rappresenta? Il coro rassicura, il coro fa sì che chi canta si tenga per mano o per il cuore, è un legare le anime. Il coro è uno stare insieme, alla sera magari, però non come fatto dopo lavoristico, ma come fatto che possa completare il giorno. Il coro è una preghiera. Le nostre nonne ci dicevano, o le mamme, Dio un'Ave Maria prima di dormire. E si può invece cantare insieme, e lo fanno i frati, quando si parla di compieta, il coprifuoco, nei monasteri. Lei ha scelto di dedicare alle storie, alle tradizioni popolari, molti componimenti, e parla della terra, delle radici, dell'amore, della guerra. In fondo, gli archetipi, no? Sì, ho parlato della guerra subito, perché volevo dare della guerra il senso del dolore, il senso della tragedia. Per esempio, quando Carlo Geminiani mi ha dato le parole di Joska la rossa, ispirata proprio da Giulio Bedeschi, era un'invenzione, invenzione della ragazza russa che vede passare questi disperati che muoiono a ogni passo e lei li copre. E li sorride, sorride al nulla, sorride al mistero della morte. Ho cantato la guerra per esprimermi con gli amici contro la guerra. Penso a Mario Rigonistern, che tra l'altro con lei ha scritto uno dei componimenti più noti che i crudaioli portano anche in scena, in giro per il mondo, che volano le bianche. Mario, scrittore indimenticato e maestro umano. Mario per me è stato il maestro anche nel silenzio. Mi chiamava la mattina qualche volta ad Asiago e camminavamo tutto il giorno, o in silenzio, oppure raccontava quando voleva e mi ha fatto vedere l'ortigara, mi ha fatto vedere il volo delle pernici bianche che alla fine della strafe spedizione, dopo un massacro inutile, volavano e ancora col più maggio invernale nel silenzio della montagna. Mi ha dato tante ispirazioni di cantare il bosco. Ecco come nascono i canti. Da un'amicizia comunque. Chissà quanti ricordi e quante rivelazioni le ha fatto. Sì, perché quando ha sentito il mio canto la contrada dell'acqua chiara, che non è più dell'allegria perché sono andati tutti via, ha detto sì, questo succede in montagna, diamoci da fare per fermare l'abbandono della montagna. E ha cercato di spingere i montanari a sfalciare i prati, a curare i boschi, che se lo avessero ascoltato, forse, anzi senza forse, la tragedia della tempesta vaia non sarebbe stata così terribile. Un'altra persona con cui aveva un forte rapporto di amicizia e che l'ha anche ispirata è David Maria Turoldo, padre David Maria Turoldo. Padre Turoldo dei servi di Maria che è stato a Vicenza, a Monteberico, io sono vicentino, ha passato anche l'esilio nella sua vita, ha sofferto, ma padre Turoldo a un certo momento ha alzato la voce. Nel dopo concilio ha detto dobbiamo ritrovare la poesia dei nostri padri e ha messo in strofe i salmi perché possano venire melodizzati. Poi ha chiamato me per le armonie, per i suoni e abbiamo, credo, creato la speranza nel momento più difficile del concilio perché il concilio rischiava di cadere nelle mani chiamiamoli pure i conoclasti, quelli che cancellavano tutto il passato. Invece Turoldo ha detto ci vuole dignità della liturgia e ci vuole soprattutto la poesia perché a Dio non bisogna rivolgersi con parole banali ma con l'abbandono della poesia e la buona melodia. E qui siamo nel tempo della musica sacra e ci arriviamo tra poco. Io so che padre David Maria Turoldo ha un legame con quell'antipiano di Asiago di cui lei parlava prima e con uno dei suoi più illustri abitanti. Ermano Olmi. Un giorno Ermano Olmi camminava con Rigoni Stern. Sta storia me l'ha raccontata Olmi e si sono fermati dietro in Val Giardini, dietro l'aeroporto. Ermano Olmi ha lanciato un sasso e ha detto se mi facessi una casa la farei là. E Mario Rigoni Stern ha preso un altro sasso e ha detto se io facessi una casa me la farei là. E si sono costruito, hanno costruito la casa l'uno davanti all'altro con in mezzo un grande larice. Ma padre David Maria Turoldo ha potuto ritornare in Italia perché Ermano Olmi bergamasco è andato dal Papa Giovanni XXIII bergamasco e ha detto facciamo rientrare dall'esilio dove è stato punito ingiustamente un frate poeta. E il Papa l'ha fatto ritornare e gli ha dato Sant'Egidio di sotto il monte. E questa è una storia non conosciuta. Questa storia non la racconta nessuno però me l'hanno raccontata loro. Che dice tutta la sensibilità e di Ermano Olmi e di Papa Giovanni naturalmente. A Sant'Egidio passavo notti cercando melodie insieme con Passoni, con Turoldo e alla mattina, ricordo una mattina che nevicava, ha detto questa notte ho trovato la parola giusta per il Salmo 22 del Buon Pastore che termina Io starò nella casa del Signore per lunghissimi anni e altro e invece lui ha scritto, ha inventato Io starò nella casa di Dio lungo tutto il migrare dei giorni. E questo migrare è stata proprio diciamo l'emozione, la vibrazione della poesia. Noi quando parlavamo prima di canti erroneamente definiti canti di montagna invece sappiamo che sono canti del popolo e per il popolo parliamo non di canzonette e per questo dico canti e sono canti molto impegnati che toccano le domande fondamentali dell'uomo e la vita con tutte le sue domande e quindi c'è l'abbandono della terra già lei lo diceva prima c'è la difesa dell'ambiente c'è il razzismo ci sono i muri di odio. La montagna ha bisogno dei montanari ha bisogno che i cittadini che la frequentano siano educati come diceva Mario Rigonisten lasciare l'automobile dove arriva il postino adesso postino non ce ne sono quasi più no perché voi portando la musica avete portato anche i contenuti sì abbiamo fatto riflettere abbiamo fatto riflettere sul silenzio commuovere e riflettere che vanno insieme anche sulla costruzione delle case abbiamo salvato insieme una montagna che si chiama Verena Verena è un nome che mettono anche le donne lassù ma volevano fare a Verena un grande villaggio e Rigoni ha detto dai baby andiamoci distendiamo per terra e se passano gli automezzi ci schiacciano e sono tornati indietro direi senta forse il più celebre dei suoi componimenti è Dio del cielo Signore delle Cime che è diventato un po' l'inno per molti che muoiono in montagna è forse una delle preghiere più toccanti so che è tradotto anche in giapponese oltre che in un sacco di altri lei quando l'ha composto aveva 23 anni e racconta una storia vera? Sì l'ho fatto per ricordare un amico che era amico dei miei primi coristi morto sulle montagne della mia valle è venuto facile perché io ho sempre fatto l'organista di chiesa e ho sempre pensato che morire voglia dire andare nell'amore di Dio e l'amore di Dio l'ho sentito nella montagna l'amore della mamma di Gesù l'ho sentito nella neve il mantello di neve io amo moltissimo la neve e perciò è venuto facile credo di averlo scritto non esagero ma in 15 minuti e poi ha percorso le strade da solo una volta ero in Giappone con i solisti veneti è venuto un maestro che mi ha portato nel teatro che si chiama Bunka Kaikan dove c'era un coro con un'orchestra che hanno suonato Signore delle Cime la più bella traduzione delle 10-12 che girano è in finlandese composta e adattata da un maestro che adesso vive a Rovaniemi che si chiama Eikivananen e lassù ho visto le aurore boreali vado sono andato spesso sono andato anche a cantare e credo che Signore delle Cime sia adattabile anche all'Equatore anche a Chilimangiaro anche al sud del mondo a qualsiasi stagione per chi crede certo le Cime sono le altezze a cui ogni uomo mira non sono solo quelle reali senta Bepi lei ha sconvolto un po' gli affezionati alla sua musica e alla sua storia dicendo qualche tempo fa che lasciava i crodaioli e smetteva di dirigere questo coro storico perché perché nessuno ascolta più ma forse non è l'unico motivo beh che nessuno ascolti è quasi vero la gente non si ascolta quando parla usano termini direi proprio che sono anche grotteschi non respirano quando devono respirare ma respirano in apnea e tutto ciò ha portato alla mancanza di autoascolto e non ascoltandosi sbagliando non hanno nemmeno voglia di ascoltare io ho sciolto i crodaioli perché possano ricostituirsi in piccoli gruppi specialistici dove si canta la fede la passione l'amore la fatica del lavoro ognuno deve scegliere un tema ogni gruppo possono anche microfonarsi come fanno i gruppi inglesi e cercare una specializzazione vocale lei ha detto che erano troppi sembrava il coro dell'armata rossa sì eravamo in troppi e i cori grossi sono difficili da amministrare per questo certi cori si mettono a fare cabaret e vanno in giro vedere i 50 sessantenni che vanno in giro a fare dudu che sembrano i nani di biancaneve invece bisogna a questo punto che i cori si specializzino che producano dei concerti anche per poca gente pagante farsi pagare perché l'arte deve essere sempre ricompensata e recuperare l'origine il motivo per cui voi cantate no? sì e possono anche recuperare i canti cosiddetti del popolo in versioni intelligenti i compositori ci sono ci sono ottimi compositori che possono riproporsi per un pubblico che sia capace ancora di ritrovare l'emozione dell'ascolto senta Beppi i suoi componimenti sono quasi sempre intrisi di fede e lei l'ha dichiarato insomma composto e compone musica sacra lei è un maestro di musica sacra e musica liturgica adesso le chiederò la differenza tuttavia in chiesa anche i pochi che ci vanno ascoltano delle musiche brutte brutte musica qualunque più che brutta allora la musica sacra lei ha detto è scomparsa è vero faccio un esempio e non è un monumento una cosa del passato no noi uscivamo lassù a sotto il monte da Sant'Esidio cantando i salmi dalla messa adesso la gente scappa via hanno distrutto le parrocchie hanno mandato a casa i parrocci anziani e la gente non va più in chiesa e non canta più magari delega un gruppetto e questo gruppetto quando ha finito dicono finalmente ha finito io vorrei scommetto che le risposte al salmo responsoriale tra le letture con quella melodietta che nessuno ricorda io vorrei domandare agli autori se se la ricordano nemmeno loro la ricordano ecco il degrado della musica sacra ma quella è musica liturgica che vuol dire per il servizio eucaristico mentre la musica sacra può essere anche una musica concertistica con testo sacro e con ispirazione dichiaratamente di fede ma la musica liturgica ha bisogno della tenerezza ecco Turoldo è stata la voce più alta per la musica liturgica con i suoi salmi ha scritto cosa buona più di ogni altra è di essere tutti insieme e di vivere come fratelli questo si canta a messa seduti senza fretta e questa è la musica della liturgia cioè che le messe siano l'espressione di tutta la comunità la messa deve durare tutto un mattino dove cantano i bambini cantano le donne canta il coro che si è preparato cantano i ragazzi con una chitarra però che non vengano a fare l'imitazione del rock ma che siano capaci di creare anche un rap intelligente il rock è morto però la chiesa lo tiene in vita è strano è tutto così contraddittorio di essere moderni e di piacere di più quando invece si è già vecchi ma su a sotto il monte si diceva che il concilio è stata un'idea stupenda è mancato un perosi è mancato un ispirato nel campo della musica lei dice è mancato anche nella poesia i testi io quando sento cantare Santa Maria del Cammino dico alla Madonna Madonna Santa Mamma di Gesù perdonali perché non sanno quello che dicono e non si ascoltano forse gli artisti non sono più così sensibili al tema del sacro da dedicargli tempo attenzione e professionalità o è più la Chiesa che non sa affascinarli e coinvolgerli la Chiesa ha preso la strada della fretta questi poveri preti che fanno le unità pastorali che hanno 5, 6, 8 parrocchie sono in 3 devono correre dir messa in fretta celebrare senza salutare la gente ecco bisogna uscire da questo da questo brutto momento perché altrimenti noi arriviamo a dire che il Concilio ha svuotato le Chiese e non era l'intenzione questa forse le Chiese si svuotano per altro motivo Bepi lei che è un uomo di fede che lo è sempre stato come vede questa che chiamano scristianizzazione o crisi della Chiesa nel nostro mondo nel nostro paese non possiamo neanche rimanere attaccati soltanto appunto ai costumi alle tradizioni quando non c'era un vero fascino nei confronti della vita di fede io la fine della Chiesa Cattolica la vedo quando il Papa ha finita la sua messa in San Pietro con il suo camminare stanco faticoso pensoso pensieroso e triste reggendo il pastorale percorre la navata e intorno nessuno lo guarda sono tutti con le braccia alte a far selfie quella è la fine della Chiesa però la Chiesa non finisce lei lo sa meglio di me qualcuno l'ha promesso è mancato anche il catechismo io ho vissuto all'estero abbastanza ho visto che i diversi credo fanno catechismo e cantano e non viene affidato alle mamme che sono liberi al pomeriggio il catechismo ma viene affidato a degli esperti che sanno cantare che sanno raccontare nella religione in scuola d'accordo che parlano della storia delle religioni ma non bisogna far passare il tempo per passare il tempo bisogna dare anche degli esempi bisogna dare degli esempi di severità di serietà di amore di sorriso di braccia aperte ad accogliere gli ultimi io ho fatto un canto che dice i bambini del mare hanno gli occhi di conchiglia le manine di sabbia cercavano prati fioriti ed è la tragedia dei gommoni quotidiana la tragedia dei migranti lei ha detto prima che ed è un pensiero interessante che sente tutto il peso che il Papa porta sulle spalle quando lo vede attraversare San Pietro finita la messa però il Papa non è triste ma secondo me è molto triste è che deve sorridere però vederlo camminare così in mezzo ai lampi o ai selfie perfino le suore alzano le braccia a fare i selfie dico ma perché non dite Papa ti voglio bene nessuno lo guarda ecco è questo abbandono proprio del rapporto del cuore legato al cuore che sta affossando la nostra fede tuttavia si ricorda cosa disse Abramo no signore però non punirli fossero anche soltanto due o tre è arrivato fino a due mi pare cioè bisogna comunque sempre sperare che qualcuno ascolta qualcuno crede qualcuno spera qualcuno costruisce dove altri rompono si bisogna ritornare all'ascolto e soprattutto come dicevo prima imparare ad ascoltarsi ciò che si dice non parlare a caso soltanto per parlare ma ascoltarsi dice io ascolto me stesso e sono soddisfatto di quello che dico oppure non sono abbastanza soddisfatto e allora cercherò di migliorarmi e di meditare sulle mie parole sui suoni e cantare dolcemente lei è un maestro severo? io? come si insegna a fare musica buona? ma bisogna insegnare a essere sempre sempre nuovi e soprattutto che tutto ciò che si fa sia memorizzabile cioè io invento una melodia e me la ricordo anche domani invece quando si inventa così quasi a caso meccanicamente vuol dire che ho inventato lì per lì e tutto finisce e come direttore è molto rigido perché ci vuole sacrificio fatica obbedienza per poter stare in un coro sì io sono sempre stato molto rigido e per imparare un canto col mio coro impiegavamo anche un mese però alla fine si cantava bene e bisogna saper cantare per cantare o devono cantare tutti sì tutti tutti è per questo è per questo che ho sciolto il coro perché devono cantare tutti specializzarsi in piccoli gruppi e quelli stonati come fanno? ma non esistono le stonate esistono persone distratte davvero? davvero tutti possono imparare? tutti questa è una grande consolazione perché è spesso un alibi no? no io non canto perché sono stonata no 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 non esiste la persona stonata esiste la persona distratta cioè chi non coglie i suoni che non sa ascoltare intoniamo allora con poca fretta un bel canto alla Madonna quest'oggi che è la sua festa oh che bello padre Turoldo ha scritto un canto che dice non chiedete mai segni o ragioni solamente credete e amate noi crudaioli l'abbiamo registrato a una voce accompagnati dall'organo del più grande organista del mondo che è Francesco Finotti e spero che pian piano possa entrare nel repertorio della nostra chiesa l'ascoltiamo intanto d'accordo grazie grazie davvero